Viva Grosseto, Rori si chiama, così è il suo nome. Mi offre un caffè a Foligno allora. Come no? Che novità c'è per Foligno? Devi trovare sempre Rori. Luca Bergamotto, Luca Bergamotto, che novità c'è per Foligno? Perché che novità? Parliamo di... Programmazione di tutti. Sì, diciamo che è in fase di rodaggio e domenica avremo così la prima puntata, la nuova redazione sportiva terrà la domenica pomeriggio in diretta, naturalmente non quella televisiva che non è consentita, però in diretta dai campi della Lega Pro, dell'Interregionale ed anche dai campi del comprensorio aquilano, quelli delle categorie minori. Quindi saremo in diretta la domenica pomeriggio con tutti gli aggiornamenti da studio e poi alle 19 di nuovo in diretta avremo i primi ospiti della domenica. Quindi diciamo che il pomeriggio sulla QTV, mentre l'Aquila sta giocando a Foligno, ci saranno degli interventi da Foligno per gli aggiornamenti? Sì, certo, avremo degli aggiornamenti continui. È un ulteriore sforzo perché contiamo così... Intanto il direttore continua a prendere gli sms? Contiamo così con la costruzione di una redazione sportiva che possa seguire il calcio in tutti i suoi campionati, anche dilettantistici, ma anche un po' gli sport minori, così di poter allargare sicuramente l'offerta televisiva, ma anche di rendere un po' un servizio a questo territorio, di ricatalizzare attorno a una o più trasmissioni, lo sport in particolare, l'attenzione che ormai da più di un anno stiamo dedicando all'Aquila Calcio. E chiudo.